Se la nuova mania della due ruote fosse direttamente proporzionale al senso civico, allora di tali ordinanze se ne potrebbe fare tranquillamente a meno. E invece lamentarsi perché le aiuole sono incolte e poi sul prato tornato finalmente verde lasciarci la bicicletta francamente appare come un controsenso. Ed è qui che si insinua la mano della legge. Maggiore Paolo Costantini, c'è un'ordinanza che riprende un po' anche il discorso fatto l'anno scorso e gli anni passati e che punta a non far parcheggiare le biciclette fuori dalle rastrilliere attaccate ad un palo, ma soprattutto sulle aiuole, sui pali della luce e quant'altro. Educazione civica, ma in questo caso forse qualcosa di più. Sì, facciamo una premessa. Questa amministrazione ha sempre dimostrato e dimostra sensibilità verso questa mobilità sostenibile avendo fatto chilometri di piste ciclabili, rastrilliere sparse per la città. Quindi è un'amministrazione che sostiene la mobilità alternativa. Però c'è il rovescio della medaglia che è quello di una mobilità alternativa, ma che deve osservare quelle che sono le buone norme della convivenza civile e del rispetto del codice della strada. Ogni estate si ripropone il problema di questo parcheggio delle biciclette in luoghi assolutamente vietati, come laiuole appena riqualificate, alberi, pali della pubblica illuminazione, e questo non può essere tollerato. E quindi l'amministrazione ha voluto dare un segnale, in questo senso facendo un'ordinanza specifica che vieta espressamente di parcheggiare le biciclette in luoghi diversi rispetto alle rastrilliere e ai luoghi previsti per il parcheggio di questi velocipedi. Ovviamente non si può fare la multa perché non hanno la targa le biciclette, però essere rimosse vuol dire che se poi uno si presenta per andarle a ritirare, Certo, chiaramente le biciclette rimosse saranno conservate a cura della Polizia Municipale, potranno essere ritirate dai proprietari, chiaramente previa dimostrazione della proprietà del mezzo con le chiavi di lucchetto piuttosto che la combinazione, e saranno riconsegnate previa contestazione del verbale del codice della strada, articolo 7. Con quanto è la sanzione? Sono 42 euro, se pagate entro 5 giorni, in misura di dottaco sconte al 30%, 29,40. Se uno va in una strada dove la rastrillera non c'è e deve parcheggiare la bicicletta, che fa? Che fa? Innanzitutto gli stabilimenti baleari ci sono offerti per dare comunque un aiuto in questo senso, dove all'interno delle proprie strutture hanno predisposto degli apposi spazi. E poi con la bicicletta bisogna comportarsi un po' come si sono di compatto con i veicoli, se non si trova il parcheggio esattamente davanti a dove doveva andare, allontriamo un attimo e parcheggiamo a qualche metro di distanza.